Ben trovati e dal divanetto dell'innovazione e anche dell'informazione sull'innovazione di Confindustria Salerno abbiamo il piacere di parlare con il presidente di Campania Innovazione, S.P.A. Giuseppe Zollo. Presidente, lei ha appena fatto nell'altra sala un bellissimo intervento riguardo all'Agenzia Territoriale sull'Innovazione raccontando un poco anche la ricetta giusta che la regione dovrebbe applicare per promuovere l'informazione. La vogliamo ripetere qui per i nostri utenti che ci stanno seguendo online? Se sia giusto poi verrà verificata dei fatti. Diciamo che questa è la ricetta che in qualche modo noi stiamo cercando di mettere a fuoco per cucinare i vari ingredienti dell'innovazione. La ricetta è molto semplice dal punto di vista verbale, molto più difficoltosa nella realizzazione. In realtà l'Agenzia Campania Innovazione è nata per volontà della regione Campania per costruire il sistema dell'innovazione regionale. ovvero per dare agli imprenditori innovativi e all'insieme dei soggetti che operano nel campo dell'innovazione un sistema stabile di riferimento di servizi a cui possono in qualche modo aderire per poter sviluppare le proprie capacità e potenzialità innovative. Lei prima parlava di un'agenzia mentore che facesse da tutor e non di accentramento delle competenze locali. Assolutamente sì. L'Agenzia non può sottrarre e non deve sottrarre competenze al territorio. L'Agenzia deve promuovere anzi lo sviluppo di competenze sul territorio. Quindi l'idea è di un'agenzia leggera che sviluppa soprattutto una serie di reti di collaborazione locali e non locali e stimola attività di collaborazione e di sviluppo di competenze tra questi soggetti. Quando lei indica e usa la parola leggera come aggettivo per l'agenzia, intende esattamente cosa? Intendo semplicemente un'agenzia che non sviluppa per esempio servizi alle imprese direttamente ma incentivi organismi intermedi che possono essere associazioni di categoria, parchi scientifici e tecnologici, incubatori, uffici di trasferimento all'università, camere di commercio a dotarsi di proprie competenze per sviluppare questi servizi. Noi le aiuteremo a sviluppare queste competenze, insieme a loro individueremo anche dei format con cui questi servizi vanno erogati e poi noi svilupperemo una capacità di monitoraggio e di diffusione dei risultati raggiunti. Prima della nascita dell'Agenzia di Campania Innovazione, quali erano gli strumenti della narrazione dell'innovazione sul territorio? Domanda bella a cui devo rispondere in questo modo. Molti parlavano di innovazione, però l'innovazione non era un racconto strutturato, era una voce di formi che si sollevava da varie parti, sulle parti istituzionali, alle imprese, all'interno di convegni, nei programmi e bandi che pure sono stati fatti, negli uffici che pure sono stati realizzati. Però quando i soggetti si muovono e cantano in modo diverso, ognuno per fatti i suoi, senza un coordinatore, un direttore di orchestra, senza uno spartito, cosa succede in un'orchestra? Succede che la probabilità che venga cantata la traviata è molto molto bassa. È come l'idea della scimmia che a caso può scrivere la Divina Commedia. Facendo conto del numero di lettere che stanno nella Divina Commedia, fate tutte le combinazioni possibili, non basta il tempo dell'universo per scrivere a caso la Divina Commedia. Fare a caso innovazione, ognuno cantando per sé, è la stessa cosa. Non basta il tempo dell'universo per fare della Campania una regione innovativa. Quali sono gli strumenti della narrazione che sono maturate all'interno dell'agenzia per parlare oggi della Campania? E parlare della Campania anche nel mondo, oltre i confine? Parlare della Campania nel mondo oggi è una cosa difficilissima, perché io sono stato a Stoccolma a presentare questo modello in un convegno che c'è stato, organizzato da un'associazione di piccole e medie imprese, perché la Campania, che poi non viene riconosciuta tanto, perché si parla di Napoli, cioè in realtà la Campania è un soggetto che sta sullo sfondo. Io ho dovuto spiegare dicendo che questa è la geografia dell'Italia, questa è la Campania, qui c'è Napoli. Tutti hanno capito dove era la Campania. Quindi già questo è un problema nella comunicazione. Diciamo che Napoli-Campania nel mondo è conosciuta o per una visione oleografica ottocentesca, o per i problemi che da qualche anno abbiamo sui problemi dei rifiuti. Poi a un altro livello è conosciuta per Pompei, per le bellezze naturali e così via. Io sono stato in Egitto e quando ho parlato di innovazione in Egitto mi hanno guardato un po' stupefatti. Diciamo ma perché ci sono le università a Napoli, in Campania, ci sta innovazione? Perché ovviamente la mentalità corrente è che lei per parlare di innovazione deve dire California, non deve dire Silicon Valley. Se dice Napoli nessuno le crede, perché Napoli fa altre cose, fa le pizze. Quindi il vero problema è come sviluppare un'immagine di una regione che punta sull'innovazione per promuovere se stesse le proprie capacità e per promuoversi anche all'esterno. Non è una cosa facile questa qui. Ovviamente il primo requisito è che ci siano dei risultati concreti che possono essere resi visibili e comunicati a livello nazionale e internazionale. Senza risultati concreti nessuno ti ascolta. Non puoi comunicare più ora intenzioni, non puoi comunicare progetti, non puoi comunicare idee. Trent'anni fa era possibile comunicare queste cose, ma oggi il mondo ha imboccato un'altra marcia. Oggi il mondo, già da per scontate queste cose, già da per scontate che l'innovazione è una cosa che bisogna fare, non è un'opzione, che bisogna dire la facciamo o non la facciamo e perdiamo tempo a discutere su come farla. Come farla? Basta copiare gli altri che già l'hanno fatta l'innovazione. Noi non dobbiamo inventarci niente da questo punto di vista. Arriviamo buon penultimi nella corsa per l'innovazione. Quindi il nostro problema in questo momento è di agire rapidamente. Cioè il tempo è il nostro nemico. Appunto, il tempo è il nostro nemico. Sullo sfondo della mission di Campania Innovazione c'è un anno, una data particolare che pesa, no? 2013. Allora, diciamo che noi abbiamo, 2013 e qualche appendice successivo, abbiamo circa tre anni di tempo per cominciare a dare la sensazione che questa battaglia sull'innovazione la stiamo vincendo. Non dico che l'abbiamo già vinta. Però abbiamo disposto le nostre truppe per la battaglia in modo tale che hanno una ragionevole capacità di vittoria. Allora, il nostro problema in questi tre anni è proprio questo. Perché quando finiranno le provvidenze europee date le regioni di convergenza, le nostre, noi dobbiamo competere con le altre 264 regioni europee ad armi pari. Sa, chi ha i cannoni laser e chi ha l'arco e la freccia, diciamo, insomma, è un po' difficile poi vincere, no? Con armi che non sono almeno paragonabili a questo. Quindi i tempi veramente sono stretti. L'innovazione appartiene a un solo genere o ci sono vari generi dell'innovazione? L'innovazione è... una volta c'erano le sicurezze, l'innovazione che cos'era, no? L'innovazione tecnologica, l'innovazione organizzativa, l'innovazione di prodotti, l'innovazione di processo, eccetera, eccetera. Oggi è diventato tutto più sfuggevole perché l'innovazione può nascere da qualsiasi parte e può toccare qualsiasi elemento sia dell'azienda sia dell'intorno circostante, no? Quindi l'innovazione oggi è soprattutto una capacità forte di apprendimento continuo da parte del mondo delle imprese, una capacità continua di rivisitare i propri prodotti, il proprio business model, di guardare sempre con una capacità riflessiva e critica ai propri mercati e quindi sviluppare un processo continuo appunto di apprendimento. E poi può diventare nel concreto un'innovazione che modifica caratteristiche di un prodotto, può diventare nel concreto una macchina o un processo nuovo nel processo di produzione, può diventare un algoritmo che ottimizza delle cose, può diventare la scoperta di un nuovo canale commerciale. Quindi, come vede, l'innovazione non è semplicemente avere un nuovo oggetto, no? Ma influenza tutto quanto il sistema sia interno delle imprese sia il sistema esterno, dei rapporti con altre imprese, con il mercato, con il sistema di supporto. Lei fra qualche minuto andrà a fare una visita speciale alla Regione. Quale sarà il feedback che le andrà portando all'assessore? Con l'assessore Trombetti stiamo discutendo da moltissimo tempo su come sviluppare il sistema, quali sono le azioni migliori e quelle più tempestive. Con l'assessore stiamo discutendo proprio in questo momento su quali sono le prime azioni da realizzare, perché lei si rende conto che un progetto diventa credibile se in tempi brevi produce dei risultati. Se io oggi annuncio una volontà e poi fra un anno ci vediamo e lei mi dice ma cosa è successo di quella cosa, già significa che abbiamo perso. Se io oggi metto in campo un'azione e fra tre mesi dimostro che c'è già qualcosa di concreto, allora può darsi che qualcuno che prima era un po' dubbioso comincia a prestare attenzione. Ecco, allora noi dobbiamo lavorare molto sui progetti a breve e con l'assessore stiamo discutendo delle iniziative che dovremmo fare subito dopo l'estate. Bene, la ringrazio di essere stata con noi qui sul divanetto verde bottiglia dell'innovazione di Confindustria Salerno. Do l'appuntamento fra qualche minuto con un'altra intervista, un altro focus sui protagonisti della giornata della quinta edizione del premio Best Practices. A dopo, grazie ancora. Grazie a lei.